Ho visto sulla stampa un articolo portato avanti dal centro-sinistra, da esponenti del centro-sinistra della provincia di Peso Urbino che attaccano la regione perché tarderebbe nel porre un vincolo nella zona di Ricici nel comune di Petriano che impedirebbe la realizzazione di una discarica. Intanto prendo atto con piacere che il centro-sinistra di Peso Urbino che ha voluto quella discarica attraverso il CDA di Marche Multiservizi acquistando delle quote di una società e ha portato avanti quindi questa attività fin dall'inizio, fa piacere vedere che oggi da parte del centro-sinistra ci sia un ripensamento. Per quel che mi riguarda sono sempre stato contrario sia come assessore regionale che come esponente di Forza Italia perché quella discarica in provincia di Peso Urbino non serve. Venendo invece alla questione del vincolo, il 12 di dicembre dello scorso anno il comune di Petriano ha richiesto alla regione Marche, al strato l'urbanistica, di intraprendere l'iter per porre un vincolo paesaggistico su quel territorio. Noi ci siamo immediatamente attivati, abbiamo richiesto tutta una serie di parere alle sovrintendenze, alle province, al comune, a tutti gli enti interessati. Il 13 di marzo si è riunita la commissione e successivamente c'è stato anche un sopralluogo ad inizio aprile proprio per visionare il territorio. Ad oggi devo dire che l'iter non si può ancora concludere perché la provincia di Peso Urbino ha inviato con grande ritardo il suo parere, è arrivato il 15 di maggio, quindi neanche un mese fa. Ma oltretutto è un parere molto vago, non dice sì al vincolo o no alla discarica, dice semplicemente che quello è un territorio molto interessante sulla quale devo ancora avere un'attenzione. Ad oggi ancora non è arrivato il parere più importante che è quello della sovrintendenza, che non lo hanno ancora inviato, l'ho sollecitato anche in queste ore e spero che arriverà presto. Quindi la regione Marche ha fatto tutto quanto quello che doveva fare e sta facendo tutto quanto quel che serve per arrivare presto a portare avanti una proposta di vincolo della zona di riceci. Però nel frattempo quella discarica non si è potuta autorizzare e non si potrà autorizzare perché fin dal luglio dello scorso anno la regione Marche ha scritto alla provincia di Peslurbino che è titolare delle autorizzazioni per quella discarica, la regione Marche, il mio sessorato, ha scritto dicendo che lì non si può realizzare una discarica perché è all'interno dei 2000 metri di distanza dal centro abitato. Quindi quella discarica lì o vincolo o non vincolo la provincia non la può autorizzare perché la regione Marche gli ha ribadito che deve stare a 2000 metri dal centro abitato e queste condizioni non ci sono. Quindi se ci sarà il vincolo tanto meglio ma anche in assenza di un potenziale vincolo quella discarica non si può autorizzare, la regione Marche è sempre stata contraria.